Marco Camisani Calzolari, oltre che essere un grandissimo esperto, un professore universitario, un divulgatore, un giornalista, recentemente è anche un filosofo che ha coniato, se si può dire, il termine di cyberumanesimo. Allora amici, prima di entrare dentro il mondo dell'intelligenza artificiale, per capirne le complessità, bisogna ricordare qualcosa, ricordare dove arriviamo, arriviamo dal digitale ovunque, io ogni tanto ho delle musichettine, adesso cambia, sto evolvendo, evolvo, evolvo la presentazione, il digitale è un po' ovunque, fa parte della nostra vita, c'è l'echino, perché spengo, non devo più mandare la musichina, immaginate una musichina, e quindi è ovunque, è ovunque perché ormai fa parte di tutto, di tutti, ho preparato un servizio che programma su canale 5 Stice Notizia, che ogni tanto, dove ogni tanto faccio dei servizi, che dovrà andare in onda, credo, oggi e domani, in cui racconto quello che è successo settimana scorsa con la libreria di compressione XZ, che voi probabilmente, di cui voi siete al corrente, cioè è successo che nel mondo open source, quindi nel mondo, nella fattispecie, c'è il mondo Linux, sapete che è un mondo fatto di contributi esterni, da parte di volontari che si mettono a mettere dentro dei pezzi in più, ognuno crea, e sono veramente migliaia le librerie che compongono oggi un sistema Linux, una distribuzione Linux, e una di queste era stata, in una di queste era stata inserita una backdoor, cioè ovvero una sorta di porta nascosta, che permetteva di accedere alla root del sistema, cioè fare qualsiasi, far fare qualsiasi cosa al sistema, quindi vuol dire poter cancellare dati, modificarli, eccetera, ora immaginate, e questo è avvenuto sempre per, ne abbiamo parlato la volta scorsa, per via di un meccanismo, pensate, non di rottura informatica, quindi, ma di ingegneria sociale, quindi attraverso un'attività di, dai ti do una mano, dai ti aiuto, piano piano mi fido, lui la conosce bene la storia, piano piano mi fido, e a un certo punto, a un certo punto, questo ha detto, ma sì dai, gli ha lasciato direttamente la possibilità di pubblicare le modifiche, e una di queste modifiche, quindi questa persona, che in realtà non è una persona che con la storia dell'ingegneria sociale ha cominciato a dire, dai ti do una mano, eccetera, in realtà pare, dopo un po' di ricerche, anche per il tipo di attacco è stato fatto, che arrivasse, fosse in realtà un'organizzazione molto più complessa di uno stato nemico, o uno stato potenzialmente nemico di qualche altro stato, o comunque, insomma, diversamente democratico di solito, che ha messo insieme questa azione complessa che è durata due anni di attività, fino a riuscire a entrare dentro, dentro in realtà SSH, cioè sostanzialmente praticamente un modo per entrare dentro, ve la faccio, faccio insomma, un computer, cioè nella fattispecie alcune distribuzioni Linux che avevano aggiornato il sistema con quello, ovvero milioni di computer, milioni di server, in giro per il mondo da banche a qualsiasi cosa che vi venga in mente, ospedali, eserciti, vulnerabili, così come succede nei film, cioè un click si cancella tutto, un click sposto miliardi di dollari da una parte all'altra, un click tiro giù qualsiasi, cioè posso fare controllo completo della macchina, su milioni di computer in giro per il mondo. Pensate che questa vulnerabilità che avrebbe, per questo che mi ricollego a questo racconto della vulnerabilità, perché il digitale ovunque vuol dire è nelle nostre vite, noi viviamo attraverso quello e non è successo nulla, quindi non è notizia, e difatti non è sui primi, le prime pagine dei giornali, e questa cosa fa un po' effetto a me, perché dico ma come, il mondo stava per finire quasi, cioè perché avrebbe creato anche dei problemi seri, una crisi umanitaria addirittura, perché sarebbero fermate l'approvvigionamento di cibo, di beni di prima necessità, centrali elettriche, cioè poi qua peraltro siete, come dire, al centro di questi temi, e quindi fortunatamente non è successo, non è successo perché un certo programmatore un po' fissatino che si è messo lì, ha detto aspetta che guardo bene, Andres Freund, un programmatore Microsoft, Mondo Database, tedesco che vive in America, ha detto ma questo comando quando io lo lancio dura 500 millisecondi più del solito, come muoio, si è messo lì e ha detto fammi capire, strana sta cosa, voglio andare a vedere bene, è andato dentro e ha scoperto sta roba, e se non avesse fatto così lui avremmo oggi una backdoor, anzi c'è ancora, perché non tutti hanno aggiornato, non tutti lo sanno, eccetera, in cui chiunque può entrare con una chiave precisa e fare qualunque cosa, qualunque cosa vuol dire quindi, io in questo servizio che vedrete ho immaginato cosa, e quindi i bancomat non funzionano più, i supermercati sono fermi, non si può comprare, le casse non funzionano, i mezzi di trasporto si fermano, perché non riescono ad organizzarsi, e avanti così, gli ospedali riescono forse le sale operatorie ad andare avanti ma il resto no, e quindi ecco, il digitale è veramente ovunque, quindi già fino ad oggi la questione è calda, no, era solo per dire, non per fare il catastrofista, per dire quanto è importante ad oggi, ma tutto quello che è avvenuto fino ad oggi, nella velocità con cui è avvenuto, è ancora un pezzettino piccolo 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 piccolo, perché adesso è arrivato, abbiamo una montagna gigante, che è l'intelligenza artificiale per come è oggi e per come sta per diventare, e anche per la velocità con cui è entrata nel mercato attraverso i vari strumenti, l'intelligenza artificiale giustamente come ricorda la Mary arriva da molto lontano, in alcuni settori è molto, come dire, è utilizzata da 40 anni in vicina, ovviamente a livelli diversi di quello che vediamo oggi, però è un pochino, no, è un po' usata ovunque, e chiaramente questo porta a viverci in mezzo anche quando non vogliamo, pensate, dico una banalità, quando non siamo sui social, quando uno di voi dice basta, io adesso mi vado, non sarò più sui social, in realtà non è vero, perché quello che ho pubblicato in passato rimarrà sempre lì, perché qualcun altro potrà parlare di voi senza che voi ci siate, e quindi dire come parla bene o male, male di una persona senza la sua presenza, cioè ci siamo sempre, anche quando non vogliamo, no? E questo apre a grandi temi, a grandi temi che ci ritroviamo tra poco, appena si tratta di parlare dell'intelligenza artificiale, perché l'arrivo dell'intelligenza artificiale ha aperto una serie di interrogativi, guardando al futuro rispetto a una serie di Lego, di elementi di base, alcuni di questi sono tutto quello che abbiamo detto fino adesso, più quanto oggi i sistemi di large language models, large multimedia models, adesso poi ne parliamo meglio, possono fare delle cose in positivo e in negativo, e altre integrazioni, pensate all'integrazione con i robot e così via. Ora, tutto questo io l'ho messo dentro questo libro, non tanto perché vi devo vendere il libro, ma per dirvi che ovviamente c'è un pensiero che è strutturato, qui racconto tutta questa storia, quindi per capirci un po', ormai da adesso in poi è il mio storytelling, a prescindere dall'oggetto libro, dal prodotto libro del mio pensiero, su questa cosa non è solo mio ovviamente, è solo un modo diverso per mettere in ordine le cose, l'unica cosa di un po' originale è il tentativo di definire quello che sta succedendo e quello che forse è necessario far succedere attraverso questo termine cyberumanismo che incredibilmente non era mai stato utilizzato prima. E quindi qui passo attraverso un percorso simile a quello che faremo oggi, un po' diverso perché ovviamente il contesto è diverso, nel senso che non siamo su un libro, siamo qua di persona, e quindi attraverso tutta la complessità fino ad arrivare alle opportunità, perché ci sono tante opportunità, le criticità e il che cosa fare, grazie. Le dico, complimenti. Sono io che ho fatto fare la dedica. Sì, infatti, molto affettuosa. E tu mi arrivi anche in ritardo? Non so che cosa devo fare per farmi perdonare. Io non lo voglio sapere, ma so che l'ho fatta per ultima apposta, sta dedica perché mi ha detto farla per ultima che è in ritardo. Allora, una delle grandi domande che ci possiamo fare sono queste per esempio. L'uomo aumentato, cioè l'uomo con delle estensioni, che adesso sono così, ma tra un po' magari non si possono più togliere, non se ne potrà più fare a meno, sarà la normalità. L'intelligenza artificiale non può mettere in pericolo l'umanità, sì e come, perché la prima cosa che viene in mente sono i robot arrabbiatissimi, cattivi che ci estinguono. In realtà c'è qualcosa in mezzo, perché quello è ovvio che è un po' fantascientifico al momento, ma, tenetelo fuori quello, ma, ma c'è lo robot, ma magari no. E poi la grande domandona che circola spesso, i robot e l'intelligenza artificiale portanovi al lavoro a tutti, comunque la maggior parte, anche qui ci sono risposte, non risposte, ci sono alcune, anche qui ho cercato di dare delle, perlomeno più che delle risposte, delle basi su cui ragionare. e poi il grande temone, che lo so che a noi ci, ma io ognuno ha il suo pezzettino da fare, non è che può occuparsi, salvare il mondo, però l'intelligenza artificiale continua ad assicurare i processi democratici, e soprattutto quando gli algoritmi incominciano, anche se quando si parla di intelligenza artificiale, parlare di algoritmi è sbagliato, perché non sono proprio propri algoritmi, è un altro tipo di matematica, però viene prima dell'etica, cioè chi comanda, l'etica e gli algoritmi vanno d'accordo, se sì qual è l'etica, ecco queste sono le grandi domande, per rispondere a queste grandi domande, poi spero ne arrivino altre da voi, alla fine, bisogna comprendere la complessità, che c'è oggi in questo mondo, perché a volte sembra banale, ma a volte mancano delle piccole basi per comprenderle, un po' come quando si va all'elementare per imparare a scrivere i numeri, se uno passa direttamente alle medie e non ha mai fatto elementari, anche se sono molto basi, diventa poi difficile comprenderla tutto il resto, e allora ci sono banalmente delle cose che senza queste non si riesce a, non parte, facciamola partire, aspetta, se non parte, ma noi la facciamo partire, è vero che non la facciamo partire, allora, ci sono delle cosine, che ad esempio non sono comune a tutti, non sono note a tutti, tutti non comprendono il significato di queste cose, e vi assicuro che pur essendo apparentemente molto tecniche, oddio non era lui, era sempre lui, non volevo far partire lui, lui non parte, aspetta, volevo solo delle paroline che apparivano, ah, è passato dopo, che carattere, è lei ha, e in sostanza, eh sì, vuol farlo da solo, va bene, voi ignorate lui per un po', anzi, torno qua, queste paroline però in realtà, quindi, domini, rete, bit and bite, logica, computazionale, IP, IP, web, internet, rete neurale, sono tutte cose che, se non si conoscono, si fa fatica poi a capire il resto, e non dico saperle far funzionare, che sono due cose completamente diverse, no? Però, non dobbiamo far galleggiare una barca, o far volare un aereo, però, il principio con cui una barca galleggia e l'aereo vola, lo conosciamo, ecco, a volte, non bisogna far funzionare una rete, ma il principio con cui funziona la rete, non lo conosciamo, perché? Perché, non solo non lo conosciamo noi, quelli che non si occupano di questo settore, ma, purtroppo, stiamo creando una generazione che non lo conosce, perché a scuola, queste cose ancora non si insegnano, ed è un peccato, perché sono delle basi, per comprendere il mondo, così come la matematica, così come lo sono altre cose, e allora sapere che è un dominio, come funziona il sistema dei dominici, perché quando scrivo .com, vado da qualche parte, sembra una banalità, la volta scorsa, chi c'era, chi di voi era qui, si ricorda che uno dei modi principali, per evitare il phishing, è imparare a leggere i dominici, perché se io so, che quando c'è scritto poste italiane, punto ciao ciao, punto it, non è vero che il dominio di poste italiane, perché dovrebbe essere dall'altra parte, di conseguenza, evito di essere truffato, senza dover per forza, saper configurare un DNS server, piuttosto che sapere come funziona internet, una rete, perché il computer, quando scrivo microsoft.com, vado dentro quel sito, come mai? un'altra banalità, così come sappiamo che il nostro è un sistema decimale, a sapere che la differenza tra un bit e un byte, e se io interrogo la maggior parte delle persone, non di settore, non lo sa, voi dite, ci sta, e io rispondo, anche no, ma ripeto, perché? Perché serve per capire il mondo oggi, quando vi dicono, quando vi vendono una connessione internet, o vi vendono un hard drive, a volte invertono, usano byte al posto di bit, bit al posto, fanno uno e l'otto volte l'altro, per cui dipende, dice una cosa che va a 10 giga, cosa? Bit per secondo o byte? Perché per secondo? Perché a volte fanno addirittura errori voluti, piuttosto che un indirizzo IP, cos'è? Perché c'è? Come funziona? La differenza tra web e internet, voi non avete idea, voi qui sicuramente la conoscete tutti, ma perché è banale, ma quante persone non conoscano la, cioè per loro web, i ragazzi, i famosi nativi digitali, non ne hanno la più palida idea, cioè tutti quelli che si sentono esperti, o noi pensiamo lo siano, non lo sono, sanno usare degli strumenti, sanno salire su un'automobile, premere col cambio automatico, l'acceleratore andare, a volte vanno a sbattere, proprio perché non hanno fatto scuola guida, non sanno come funziona, ma poi non hanno la più palida idea che sotto ci sia un cilindro che fa così, o una batteria che fa andare un motore elettrico, cioè lontanamente, e quindi non sanno che internet è la rete, e il web è solamente la parte, l'interfaccia all'interno del web browser, cioè dell'HTML, addirittura viene usato oggi come sinonimo di internet, la maggior parte dei giornalisti lo usa così, esperto di web, perché solamente delle pagine sono esperto, ho capito, perché solo di web, il resto no, è piuttosto che sino ad arrivare oggi almeno a capire che cos'è una rete neurale per arrivare piano piano ovviamente al concetto di intelligenza artificiale, perché è sapere su cosa è basata, questo signore, Eliezer Yudoroski, Yudkowski, che è un teorico dell'AI, non riesco mai a pronunciarlo, ha divulgato sostanzialmente l'idea dell'intelligenza artificiale amichevole, che ha detto, che questo è uno di voi da seguire, dice, il pericolo più grande dell'intelligenza artificiale è che le persone concludano troppo presto di averla compresa, ma io sono assolutamente d'accordo con lui, e tutto questo sta succedendo in modo molto molto veloce, e tocca a tutto, tocca a tutti i vari settori, e chiaramente ogni settore è altamente influenzato da questo, siamo di fronte ad un momento in cui tutto sta così veloce nel cambiamento che se non mettiamo immediatamente mano e non modifichiamo immediatamente tutta una serie di asset fondamentali della nostra società, rischiamo di diventare poco, o di entrare in certi pericoli di cui ora vi parlo, o di diventare poco competitivi, come aziende, come Stato, come ogni settore. La scuola credo sia la più importante, attualmente non è cambiata da anni, non lo è, se entrano i tablet, ma ci fanno vedere qualche video, la didattica non è stata ripensata, pensate a quello che è stato sino ad oggi, e a quello che arriverà, e quello che sta arrivando, quindi non solo non siamo preparati con lo tsunami arrivato prima, ma nemmeno a quello che siamo arrivati. E siccome stiamo creando una società, ognuno di noi in modo un po' più egoistico pensa al proprio figlio, ma come società è un grosso problema, a creare una società poi impreparata. Attenzione, è un problema globale, non è solo un problema italiano, noi in Italia ci sentiamo sempre un po' inferiori, in realtà io ho i figli che studiano in Inghilterra, vivo lì, e ho tanti amici negli Stati Uniti, quindi in teoria le due economie più avanzate, da questo punto di vista. E non è così, è un problema generale, che abbiamo tutti, e quindi bisogna, dobbiamo occuparci. E soprattutto sta cambiando non solo, dal punto di vista appunto del fatto che bisognerebbe integrare tutte queste materie, per fare in modo che, ripeto, non per formare, cioè quando si studia matematica, noi non vogliamo che diventino matematici, è la base per comprendere il mondo, quindi non per diventare informatici, ma per comprendere il mondo, per non farsi del male, per non schiantarsi di fronte a un dominio ogni volta che ne vedi uno, no? E in più il mondo sta cambiando verso la formazione continua, nel senso che, uno dice la laurea non conta più niente, no, diciamo che mettiamo da una parte il valore legale del titolo di studio, che effettivamente a volte è un problema in alcuni paesi, secondo me in Italia, e dall'altra parte lo studiare tutta la vita, non è che la laurea non conta niente, la laurea conta se studia anche tutta la vita, se fai solo quello e poi basta, a meno che non studi, che ne so, io ho una storia antica di un periodo molto preciso e non ti aggiorni neanche su quello che è stato scoperto, altrimenti ti tocca stare in formazione continua, no? E oggi si può fare, si può fare in modo molto facile, ci sono questi Massive Open Online Courses che ti permettono di farlo con grande facilità, le più grandi università del mondo le mettono a disposizione, alcuni gratuiti, alcuni no, io sto vedendo già con i miei figli che nella loro, quello piccolo no, quello grande, ma anche se per alcune cose mi piace il mondo programmazione, uno l'altro, tutt'altro, studia scienze, studia politica e legge, e gli mancavano delle cose, tipo era molto interessato al mondo del music management e lì non si studiava, in quel corso di legge, non si studia la parte del copyright di quel settore, e allora sta facendo un corso di quelli online, mi ricordo che la università, che offre quel modulo e se lo fa separatamente, chi se ne frega se non è orientato al credito che poi ti serve, la vita è lunga e dovrà continuare a farlo e lo sa benissimo, ecco questo è quello che dovrebbe essere, di cui bisognerebbe parlare, per cui proprio i soft skills anche no, che sono un'altra parte di conoscenza che è fondamentale portarsi dietro, quindi tutto quello che oggi è saper parlare in pubblico, la gestione dello stress, la negoziazione, tutte cose che oggi si possono imparare, una volta erano inaccessibili, no, nei due casi, nei due incalchi che ho avuto, uno in passato all'Imperial College e adesso al San Raffaele di Milano come coordinatore del Master in Comunicazione della Scienza, prima invece ero nel comitato scientifico che definiva i contenuti dei Master, dei Master, no, erano gli MBA dell'Imperial College, perché ti mettono insieme le parole giuste, se no, e in tutti e due i casi quelli più ricercati dell'azienda erano quelli più bravi a parlare in pubblico, banalmente, non quelli più bravi oggettivamente, con il voto più alto o con più competenze, per cui, no, soft skills sono sempre più importanti. e tutto questo, come sappiamo, ha portato, e adesso ce lo ritroveremo, ve lo sto elencando perché adesso ci passo, ci ripasso sopra con l'asfalto dell'intelligenza artificiale, no, le piccole aziende, le medie, oggi a potersi permettere di fare cose che prima non potevano fare, hanno, là in generale, no, la cultura aziendale, i meccanismi sono stati ripensati, la sanità è in trasformazione completa e infatti questo master che adesso sto coordinando parla proprio di questo, insomma, non degli aspetti più tecnici perché su quello ci pensano i medici, ovviamente, e gli scienziati di settore, quindi su come utilizzare banalmente l'intelligenza artificiale per fare diagnostica, ok, però però c'è tutto il resto attaccato, banalmente oggi a Londra non avete idea di quanti siano i medici che non ti rispondono più personalmente, e fanno rispondere all'intelligenza artificiale di quanti siano, e questo è un problema ovviamente, adesso ci arriviamo, ma quanti siano i papers caricati nelle varie, quanti siano le pubblicazioni create completamente dall'intelligenza artificiale, ogni tanto, chi mi segue avrà visto qualche posto qualche settimana fa di un paper con, addirittura, aveva all'inizio si erano dimenticati di togliere la domanda che aveva fatta già a GPT, cioè c'era proprio dimmi un, scrivi un coso, cioè, no, ecco, e anche ovviamente i servizi pubblici dove bisogna correre, no, l'Europa sta correndo, l'Italia sta correndo, è un mondo difficile da riformare per ovvie ragioni che conosciamo, però anche lì sicuramente, no, si sta, ha bisogno di muoversi. In tutto questo contesto a cui dopo, ripeto, non ho perso il focus, andremo a ripassarci sopra o a comprendere, o a ripensare a tutto questo dal punto di vista di quanto l'intelligenza artificiale può essere applicata e portare cambiamenti, la realtà aumentata, ok, chi mi segue sa che il termine metaverso non mi piace perché descrive una cosa che non esiste diversa in termini commerciali, ma la realtà aumentata esiste, ora con devices molto faticosi, pensate al Vision Pro, pensate anche all'Oculus, Quest 3, che hanno, sono pesanti, sono, come dire, isolanti, isolano dal contesto, non ti permettono, insomma, non hanno ancora delle caratteristiche, ma pensate quando invece saranno integrati in occhiali con grande facilità, con alta risoluzione, allora sarà abbastanza comune averli e sarà qualcosa che avremo tutti e anche lì c'è da fare un pensiero, così come oggi fate un pensiero sull'avere o non avere un sito internet intorno sull'essere o non essere sui social, no? Perché la realtà aumentata davvero sarà, è diverso dall'attività virtuale, perché l'attività virtuale è completamente distopica, ti porta in un altro pianeta e vivi là, ed è un altro film, sono proprio due cose profondamente diverse, mentre l'attività aumentata aggiunge elementi, non dobbiamo dimenticare, soprattutto alla luce di dove stiamo andando, che attualmente già ci sono una serie di problemi dovuti a tutto questo da risolvere, sempre come società, quindi i rifiuti digitali che sono spazzatura, che lo stanno diventando sempre di più entro, entro, non ho messo l'anno, però insomma diciamo, qualche anno 5 miliardi di cellulari diventeranno spazzatura inquinante, solo l'1% viene riciclato, la maggior parte di noi butta batterie, eccetera, una spazzatura e poi ce le beviamo perché purtroppo gli acidi poi si disciolgono, le terre rare sono prevalentemente minate da bambini piccoli, l'unice stima che siano tra 40.000 tra i 3-7 anni che minano quotidianamente nelle miniere di congolesi, cobalto e tantalio e questo è un problema da risolvere, non possiamo non far finta di niente, no? E anche ovviamente quando buttiamo via computer e server. Ci sono disparità attualmente sulla connettività, si risolveranno, ma nel frattempo ci sono con vantaggi anche per certi aspetti. Pensiamo ad esempio a proposito di diversità invece a quanto l'inclusività per certe cose permette di partecipare più attivamente alla società a persone con disabilità, banalmente oggi dispositivi ah, si vede solo di lì? Ah no, anche di qua. Dispositivi come questo a costo basso che possono permettere a chi è paralizzato sugli altri superiori di essere imboccato da una macchina al posto di doverselo far fare da una persona. Oggi sono cose che costano 200 dollari, 300 dollari e una volta non erano nemmeno pensabili, Piuttosto che il cucchiaio per il malato di Alzheimer che mi permette di mangiare senza pacchisono, scusate, di mangiare senza che vibri la forchetta o addirittura arti artificiali che ci permettono addirittura allacciarci le scarpe. E arriviamo all'elefante nella stanza. Allora tutto questo sta cambiando tutto quello che è già cambiato. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso in più è influenzato dall'intelligenza artificiale. Ma che cos'è l'intelligenza artificiale? Io nel libro spiego che in realtà al momento stiamo parlando di comunicazione artificiale stiamo parlando di pappagalli statistici che più o meno cercano di imitare il nostro modo di fare cose ma lo imitano e pensate che addirittura lo fanno indovinando la frase dopo la parola dopo cioè in modo proprio non pensato completamente non ha niente a che fare simulano è un po' come lo studente che è molto bravo a parlare che non ha studiato che però intorta il prof perché parla bene mette insieme pezzi perché imita quelli che sanno parlare bene ma non c'è la sostanza ecco non sa cosa sta dicendo attualmente quello che abbiamo più frequentemente è appunto quello che abbiamo provato tutti c'è GPT e strumenti simili compresi anche questo c'è GPT è un large language model no? ma adesso ci sono i large multi-media models cioè utilizzano lo stesso gli stessi principi per generare prodotti multimediali banalmente questo è il mio video ok faccio veloce perché c'è l'eco con un click un click un click dabbiale perfetto è pieno di strumenti così che ve lo fanno fare niente di di straordinario per cui attualmente stiamo parlando alla fine di copiatori statistici ma dove stiamo andando verso quale strada stiamo andando, cioè dove ci stiamo arrivando, allora attualmente siamo fermi lì però pare, OpenAI dice di aver già pronto Qstar, Qstar in teoria dovrebbe essere un prodotto molto avanzato che secondo i rumors circolati, dovrebbe essere il primo prodotto disponibile di AGI Artificial General Intelligence ovvero un'intelligenza superiore all'uomo che viene anche definita AI, Artificial Intelligence Strong AI l'intelligenza artificiale forte perché è staccato WebEx non gli piace l'intelligenza si è arrabbiata è già dentro Matrix è già lì che sta facendo il suo lavoro ok intelligenza artificiale forte che replica perfettamente e supera i meccanismi dell'apprendimento umano e qui ci si ferma un secondo perché come funzionano oggi le reti neurali raccolgo prendono dati astraccico poi parliamo del tema anche della privacy del copyright eccetera prendono dati astraccico più o meno capiscono come funzionano le cose uniscono i vari pezzettini e li replicano senza senza come dire senza capirne il contesto banalmente se fate una foto quando chiedete all'AI di creare una foto di qualcosa avete presente se chiedete di creare dei fornelli è molto probabile che il numero di fuochi non corrisponda al numero di manopole e questo fa capire che lui non ha proprio l'idea del contesto cioè ha messo doveva mettere le manopole le mette le mette i fuochi li mette ma non gli fa corrispondere e quindi ci sono tre manopole e quattro fuochi lui non lo sa non ne frega niente non è nel suo pensiero per cui non mette insieme i pezzi ok e soprattutto ad oggi lo deve fare basandosi su una cosa che si chiama training quindi dati che ti do informazioni che ti do pezzi che unisco e tu poi dopo me lo rifai anche dall'altra parte cioè ti ho fatto vedere come funziona questi sono i lego fallo anche tu ecco l'AGI invece dovrebbe non l'abbiamo ancora vista a parte quelli che dicono che forse c'è già dovrebbe invece riuscire a fare ragionamenti quindi dovrebbe riuscire a a capire come facciamo noi che se i fornelli sono quattro ci devono essere quattro manopole e soprattutto lo fa senza training cioè come un bambino che naturalmente raccoglie informazioni mette insieme i pezzi del mondo però lo può fare ad una velocità straordinaria perché il bambino ha bisogno di tempo biologico mentre lì no li acceleri metti più processore e il processo di apprendimento dei trent'anni di un essere umano avviene in un secondo ma c'è di più c'è di più questo per darvi il contesto perché c'è un'altra frontiera che attualmente non è non solo non è lì dietro come invece pare sia l'intelligenza artificiale generale ma secondo alcuni me compreso non è nemmeno raggiungibile però se ne parla tanto tempo che è la singolarità ok cioè la capacità di fare tutto questo ma con meccanismi diversi superiori dal dai processi di apprendimento del cervello umano perché fino adesso ok aspetta attenzione abbiamo Houston lui presuppone che noi vediamo quello che ha scritto ma è bello avere questa presupposizione che ha scritto ha visto no ha detto che le slide sono off e allora noi le mettiamo on non sono scelate sì cioè perché quando era esploso tutto prima che è entrato Matrix giusto adesso ce lo diranno ma secondo me abbiamo battuto Matrix Matrix no questa singolarità la singolarità deriva da è stata presa al termine dalla teoria della relatività generale dalla relatività generale di Einstein perché qua ho scritto esattamente perché la singolarità rappresenta per Einstein un punto di densità e gravità infinita in cui qualsiasi oggetto per la luce rimane intrappolato per sempre quindi la nostra attuale conoscenza della fisica si interrompe al limite della singolarità rendendoci impossibile descrivere ciò che accade al suo interno perché non abbiamo la cognizione quindi la singolarità dell'intelligenza artificiale arriva lì e quindi è stata un po' John von Neumann ha introdotto ha preso il termine da Einstein e l'ha portato nel dentro dentro il mondo matematico e poi è next nel mondo l'intelligenza artificiale e me lo dice che ha condivido qua qua mi dice che questo c'è iPhone no 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 ci arriviamo ci arriviamo va bene quindi io pauso lo sharing pausiamo lo sharing lo stoppiamo lo prendono loro perfetto dove siamo qua e quindi ecco si interrompe nel momento in cui arriviamo al limite e quindi questo il punto appunto il punto è che stiamo il rischio il grande interrogativo è che una delle teorie è che l'intelligenza artificiale generale con i pensieri umani tuttavia riesca addirittura a generare una arrivare alla singolarità ci sono alcuni tecno entusiasti che sono straordinariamente appunto felici di questo e altri un pochino meno io sono il pochino meno infatti il cyberumanesimo descrive proprio l'esigenza rispetto al mondo cyber che è di più di quello digitale perché è un mondo particolare un mondo connesso un mondo che il digitale può vivere anche senza umano può vivere anche senza connessione un orologio sul comodino non connesso è digitale non c'è umano non c'è non c'è connessione cyber vecchio termine spiego poi bene l'etimologia e il perché sono arrivato al cyberumanismo spiega il perché appunto invece lì c'è l'uomo di mezzo e la connessione ecco stiamo andando verso questo che poi se ci pensi Marco se posso un attimo ricollegare come no certo così prendo bevola e così ti faccio vedere anche un po' d'acqua sì è quello che è stato detto a Bentley no? a Bentley è stato detto non ci può essere cioè il rischio che da qui a brevissimo non a breve a brevissimo tempo l'intelligenza non cosciente così l'hanno definita no? superi l'intelligenza cosciente e a fronte di questo è credibile il rischio tutti gli stati del mondo comunque quelli presenti nel centro dove il gruppo anglo-polacco appunto ha combattuto la criptografia di Enigma si è prodotto nell'affermazione di principio quella che sottostà a ogni regolamentazione successiva e cioè che comunque l'intelligenza artificiale deve essere guidata dall'essere umano non ci può essere un'intelligenza artificiale che sia autonomamente operante a livello non cosciente questo è il punto su cui tutti hanno trovato diciamo un momento di univoco univoco con voi sì questo adesso ne parlerò ma questo poi è stato sì assolutamente così quello è stato uno dei principali il punto cardine forse no? che mi è uscito per la prima volta dopo anni tutto questo immaginatelo incarnato è sbagliato inserito dentro robot quindi tutto quel tipo di autonomia di capacità di fermiamoci quando dico tutto questo via la singolarità è lontana non ci interessa un buco nero non lo conosciamo siamo andati vicino per dirvi che c'è forse e arriverà qualcuno dice che invece no però che è lì fermiamoci all'intelligenza artificiale generale o se vogliamo ignoriamo anche quella perché parliamo di quello che c'è oggi cioè la capacità di software di emulare ripetere con sedicente o teorica simile dell'intelligenza simile come dire capacità copiativa associativa che quella c'è già unita grazie alle macchine e e quindi ci troviamo in mondi che cambiano ma cambiano perché perché è evidente che quando un sistema come questo che fa da parcheggiatore e tu dici sì vabbè ma chi vuoi che sì ma quando questo costa 30.000 e un parcheggiatore costa 80.000 e allora all'anno e questo costa 30.000 una volta sola con 2.000 di manutenzione le aziende ci metteranno 5 minuti a sostituire il parcheggiatore è automatico è istantaneo cioè non è che forse anche i meno tecnologici i meno tecnologici quando si tratta di denaro è velocissima l'adozione cioè un pulisci toilette purtroppo è così impara voi dite ma se io la toilette la sposto 10 cm più in là lui che fa e lui lo fa 10 cm più in là quello che vedete è un mezzo fake nel senso non è fake se no non ve lo farei vedere semplicemente sono sistemi che hanno quello che vedete è reale di training cioè vuol dire che ancora questo non è in grado di farlo in qualsiasi casa tuttavia tuttavia questo è così come io devo prendere per far imparare a GPT quando gli dico scrivimi un testo come lo scriverebbe Goethe e lui scrive la stessa che ho detto io usando parole diverse allo stesso tempo la stessa cosa avviene con i movimenti e quindi io ti faccio vedere come stiro tante volte tu replichi e tu replichi vuol dire che vuol dire che non stirerò cioè se sposti la camicia non è che continuo a stirare fuori dalla dalla camicia cioè mi sposto e stiro la camicia ok perché imparo e allora ecco che il cuoco stellato farà degli movimenti prenderà degli ingredienti farà delle cose e ci sarà il cuoco stellato come adesso c'è il bimbi ci sarà il bimbi stellato con le braccine che si mette lì in cucina le gambette e va a copiare tutto e chiaramente questo ha un impatto enorme sul mondo del lavoro di cui noi qui ci possiamo far poco sono i politici i mondiali che se ne devono occupare peraltro mondiali per una serie di ragioni ma è evidente che adesso vi ho fatto vedere dei robot strani così che dicono sì vabbè a volte io quando scrivo queste cose metto questi video qualcuno scrive sotto io faccio l'idraulico da 30 anni voglio vedere io il robottino quando c'è il guaio che è solo la mia esperienza e purtroppo quello di cui non si rende conto e non ci rendiamo conto è necessario che venga come dire che sia che siano consapevoli anche quelli che stanno guidando la società e anche gli elettori perché se no eleggono quelli sbagliati ma non sbagliati non c'è più destra e sinistra qua c'è chi si rende conto e chi no a mio parere e vale molto di più dei vecchi concetti cambiato tutto